ciao a tutti io sono vanessa e bentornati sul canale di mangia pagine oggi vi mostrerò i libri che ho letto in quest'ultimo periodo nell'ultimo mese diciamo tra giugno e fine maggio in realtà partiamo subito allora il primo libro che voglio mostrarvi ho fatto comunque una cernita di questi romanzi è brit marie è stata qui di frederick bachman questo libro è da poco uscito in libreria e l'ho preso perché avevo letto sempre dello stesso autore un altro romanzo che mi era piaciuto tantissimo ed era mia nonna salute chiede scusa qui in brit marie è stata qui ritroviamo lo stesso personaggio che faceva parte dei coprotagonisti del volume precedente brit marie brit marie era la vicina di casa ed era una donna che non ha avuto niente di bello nella sua vita era fidanzata con alf ma lo stesso la tradisce allora si sposa col fratello kent ma farà la stessa fine della storia precedente brit marie desidera semplicemente una cosa desidera essere apprezzata per quella che è e riuscirà ad esserlo solamente quando si trasferirà a borg borg è un paese piccolo pieno di persone poco raccomandabili di bambini che purtroppo sono già diventati grandi per la loro età sono già diventati adulti maturi e tutte queste persone con borg stessa inizieranno daranno un nuovo inizio a brit marie brit marie una cosa che sa fare benissimo è quella di pulire pulire la fa sentire una persona utile è il suo modo per dimostrare al mondo di essere in grado di farcela in ogni occasione in questo romanzo brit marie capirà che l'apparenza che a lei che lei ha sempre riputato comunque come una cosa fondamentale importantissima conta poco quando si ha a che fare con i sentimenti veri questo penso che sia uno dei romanzi che nel 2017 mi abbia colpito e mi abbia mi sia piaciuto moltissimo più di tutti gli altri quindi consigliatissimo il prossimo libro che voglio presentarvi è di un autore italiano ed è diciamo una favola nera misto a un thriller e a un giallo e qualcosa di incomprensibile forse sto parlando di cicatrici di gianluca morozzi di morozzi avevo letto già blackout e mi era stato consigliato da un altro autore che avevo avuto la possibilità di conoscere che è gianluca mercadante allora questo romanzo vede protagonista nemo che è un ragazzo un po impacciato estraneo ai contatti umani estraneo alla socievolezza diciamo così e che svolge la funzione la il lavoro di tipografo un giorno si innamora perdutamente improvvisamente di una ragazza che incontra sull'autobus tutte le sere dopo averla conosciuta ed essersi invaguito si confida con un'amica lisa che è la sua coinquilina ed è l'unica persona con cui riesce a cucire e ad adattare sulla propria persona un tipo di rapporto in senso di amicizia nemo riesce a conoscere quella bellissima ragazza che sale sull'autobus in un frangente un po particolare e scopre che si chiama felice felice però non il nome felice non rispecchia in realtà la personalità di questa donna nasce comunque una storia una storia di ingenua complicità mi piace mi piace definirla ma in realtà attorno a questa questo rapporto a questa narrazione c'è un'altra molto più grande che ricorda un po le mille e una notte quindi queste storie incatenate concentri che legate una all'altra da una storia che riguarda un rapporto ancestrale qualcosa di originario di enigmatico che porterà forse alla fine tragica di qualcuno dei personaggi che troviamo in cicatrici lo stile di morozzi è bellissimo è tagliente incisivo non non utilizza giri di parole e soprattutto la storia diciamo quella che fa da cornice esterna alle vicende di nemo e felice è quella che io ho apprezzato maggiormente è molto è stata molto angosciante quasi mi sembrava di leggere un romanzo di steven king io questo libro lo consiglio tantissimo davvero ora mi parlo brevemente ma proprio un cenno di un romanzo che mi è stato inviato dalla fazzy line e sto parlando di absence di chiara panzuti ed è un romanzo di cui non parlerò moltissimo perché a fine settimana o comunque subito dopo questo video uscirà un video recensione dedicato a questo questo è il primo volume di una trilogia fantasy utopistica scritta da una ragazza davvero giovanissima e devo dire la verità questo libro mi è piaciuto davvero davvero tanto non vedo le ore di leggere leggere i seguiti comunque vi rimando sicuramente alla recensione prossima il prossimo libro che vi presento mi è stato inviato anche questo da una casa editrice e sto parlando della nn editore che esce sempre con libri molto accantivanti e molto particolari e questa volta vi presento di regis de samoreira io non lo so pronunciare ve lo dico e il libro è come in un film questo è un romanzo che mi ha accompagnato in un viaggio io ero finito in un paio di giorni e il libro è proprio quello che anticipa il titolo stesso cioè è la storia di lei e di lui quindi non abbiamo i nomi dei personaggi che si rivolgono a una fantomatica ideale macchina da presa che registra ogni loro movimento e ogni loro mossa ogni loro parola è un libro scritto sotto forma di un eterno dialogo perché vi faccio vedere il libro è fatto in questa maniera e i colpi di scena qui si sprecano come anche le scene diciamo così le scene morte in cui non avviene niente perché comunque rappresenta la vita di una coppia reale qualsiasi coppia che possiamo incontrare tutti i giorni durante la nostra vita e il ritmo lento della narrazione acuisce proprio questa questo senso di stanchezza che pervade la coppia nella nella propria esistenza giorno dopo giorno giuisce delle piccole cose si scandalizza di altre ma nello stesso tempo l'autore riesce anche con una sottile ironia a ricordarci sicuramente Woody Allen e dall'altra parte a far scorrere velocemente il romanzo quindi questo io lo consiglio davvero davvero tanto l'ultimo libro che voglio voglio presentarvi è penso uno dei romanzi più belli che abbia letto davvero in questo periodo e sto parlando di Anima non leggo il nome dell'autore perché proprio non so leggerlo in Anima c'è un uomo che fa ritorno a casa e trova la moglie in una pozza di sangue uccisa in maniera brutale quasi animalesca il protagonista tenta in ogni modo di capire come è potuto succedere una disgrazia simile si mette sulle tracce dell'assassino la particolarità di questo romanzo che è scritto in una maniera malinconica quasi volutamente poetica secondo me lo stile molto piano la particolarità dicevo di questo romanzo è che la vicenda è presentata dal punto di vista degli animali che il protagonista incontra sulla sua strada quindi ogni capitolo si apre con il nome latino dell'animale che presenterà la narrazione e questo per ricordarci che a volte gli animali sono meno crudeli dell'uomo dell'essere umano è un romanzo visionario un romanzo quasi improbabile e che nessuno ha mai pensato di scrivere perché secondo me è una genialata e non dovete farvi spaventare dalla mole perché anche questo scorre via che è un piacere è molto bello vorrei leggere altro di questo di questo autore e con questo io vi saluto e spero di avervi intrattenuto piacevolmente e ci vediamo al prossimo video ciao